Davide Giacalone incontra i cittadini ragusani e il popolo del web. Il candidato alla presenza della regione siciliana, sostenuto dalla lista Leali alla Sicilia, ha fatto tappa nel capologo ebleo per confrontarsi sui programmi e sui contenuti. Giacalone ha puntato all'attenzione sulle potenzialità della Sicilia, martoriata in questi anni dal malgoverno e da chi ha fatto perdere agli imprenditori treni importanti come fondi strutturali europei, adottando politiche clientelari che non hanno fatto altro che ingessare la macchina amministrativa. Una regione che rischia il fallimento mentre i contendenti alla presidenza dati per vincenti dai messi media lanciano proclami che non potranno trovare applicazione una volta che sarà eletto il nuovo presidente. Giacalone ha affermato infatti che Crocetta, Musumeci e Miciche non sono altro che tre manazioni dell'ex presidente Lombardo. Crocetta è esponente del PD che fino a pochi mesi fa lo sosteneva. Miciche adesso si è alleato con Lombardo e l'MPA, mentre con Musumeci stanno quei partiti che hanno permesso a Lombardo di essere presidente. Ma ritornando ai programmi e alle proposte Giacalone ha parlato di una Sicilia ricca e con tante potenzialità che qualcuno però deve riuscire a far emergere. La ricchezza deve essere prodotta, deve essere creata e per crearla occorre un mercato economico, un mercato del lavoro, un mercato del credito aperto alla competizione e quindi competitivo e hai bisogno anche di una qualità umana, quindi di preparazione soprattutto dei più giovani che siano all'altezza della situazione. C'è bisogno di tantissima meritocrazia per rendere la Sicilia capace di mettere le ali. Ed ancora ha evidenziato ironicamente Giacalone, i governanti sostengono che non è possibile garantire il trasporto agli studenti perché si sfora il patto di stabilità, però ha proseguito, non si bada a tagliare il superfluo. Il patto di stabilità europeo lo sfori per la spesa pubblica e improduttiva corrente che non sono riusciti a governare. Quello del pullman per i ragazzini è solo l'ultimo livello che è dovuto e che è quello che c'è sotto, l'iceberg che c'è sotto che deve essere sciolto. Infine Giacalone ha lanciato la proposta di snellire la macchina amministrativa attraverso l'informatizzazione e il web, uno strumento che garantirebbe abbattimento dei costi e dei tempi e maggiore trasparenza. Non solo la deburocratizzazione che può essere insieme alla digitalizzazione un ottimo strumento per rendere più veloce il mercato e anche più trasparente, quindi anche meno corrotto, che è un fatto positivo, ma proprio la fine di alcune funzioni pubbliche, lo snellimento di interi comparti della pubblica amministrazione che più sono grossi, più sono grassi, più sono elefantiaci e più cresce la violazione delle norme, sia quelle amministrative e civili che quelle penali. Particolarmente soddisfatto è il pubblico presente che si è confrontato con il candidato alla presidenza sugli aspetti che riguardano i programmi Lede Nuove lanciate da Giacalone e dalla lista leale alla Sicilia. Agli elettori non bisogna dare false speranze e promesse, ma progetti che possono concretizzarsi. Ciò che mi piace di Davide è che non solo dice ciò che vuole fare, ma spiega il programma, dice come lo vuole fare e soprattutto non si fanno volipindarici, non si fanno discorsi, non si fanno comizi per prendere voti e basta, ma si danno soluzioni reali a problemi reali che è quasi una rarità, anzi è un'assoluta rarità. Sentendo gli altri candidati alla presidenza mi sembra di sentire tutti la stessa cosa, dicono tutti esattamente la stessa cosa. Addirittura, voglio dire, chi è candidato di centro-sinistra propone programmi di centro-destra e viceversa. Cerco di confonderci le idee. Davide è una persona corretta, seria, leale, sa quello che vuole. L'aspetto che mi ha colpito in particolarmente sono stati i contenuti, perché ultimamente noi giovani soprattutto siamo stati abituati a una politica gridata, una politica che soffocava diciamo i problemi e soffocava le cose oggettive che dobbiamo trovarci a risolvere necessariamente perché ne abbiamo necessità prossimamente. Giacalone è una persona che parla di cose, è una persona che dà un valore alto alla parola politica che in questi anni è stato parecchio svilita. Spiragli di luce per l'aeroporto di Comiso. Questa mattina in prefettura si è riunito il tavolo tecnico convocato dal prefetto Giovanna Cagliostro. Erano presenti i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine direttamente interessate allo scalo, delle internavazione civile, della società di gestione degli aeroporti di Comiso e Catania. Sul tappeto lo stato dell'arte e dell'importante infrastruttura, ma soprattutto la convenzione con l'ENAV per i servizi di assistenza al volo. L'aeroporto deve aprire quanto prima, hanno assicurato i nuovi vertici della SAC Giuseppe Giannone e Nico Torrisi. Avevo preso impegno col prefetto una decina di giorni fa di fare i compiti a casa, cioè quello di avere il punto esatto di che cosa manca da parte di SAC e di Soaco. L'abbiamo fatto insieme, abbiamo unità di intenti, questa è la prima volta che avviene, SAC, Soaco, amministratore e presidente di SAC, aggiungo anche Camera di Commercio per le cose che faremo, saremo come un sol'uomo attorno a questa questione. Siccome l'unità è importante, noi non sappiamo se ci riusciremo, ma vogliamo riuscirci. Questa cosa è una cosa che possiamo e dobbiamo fare, perché le carte ce le abbiamo in regola. È una priorità che ci siamo dati, garantisco da parte della SAC un impegno che crediamo non sia mancato, ma che certamente non mancherà più, ove lo stesso non sia stato ai primi posti dell'attenzione della SAC. Siamo qua per questo, col presidente, siamo qui per incontrare ovviamente le autorità locali, ma soprattutto per fare un lavoro sinergico e di squadra. Quindi, ripeto, garantisco il massimo impegno, ma non soltanto a chiacchiere e nei fatti. Vediamo di trovare qualche punto di partenza. Lo scalo casmineo intanto ritorna alla ribalta dei massimidi a nazionali. Le telecamere di Ballarò sono entrate nello scalo di Comiso martedì scorso e nei prossimi giorni lo strano caso del Magliocco. Approderà anche sulla 7 nella celebre trasmissione satirica di Canale 5. Striscia la notizia. C'è attesa a Ragusa per l'insediamento ufficiale di Margherita Rizza, il commissario straordinario e inviato dalla Regione, che sostituisce il sindaco Nello Di Pasquale, dimessosi lo scorso 30 agosto. La Rizza è stata nominata dalla Giunta regionale di governo per reggere Palazzo dell'Aquila fino alle elezioni amministrative della prossima primavera. Lunedì dovrebbe esserci l'insediamento ufficiale, ma la notizia del suo arrivo trapela già da ieri con una certa insistenza. Bocche cucite al comune, anche se è tanta la speranza che qualcuno torni a guidare la macchina amministrativa dopo tre settimane di vuoto. Al momento il vice sindaco Cosentini ha avuto il compito di svolgere atti indifferibili e inderogabili. Alla Rizza è il compito invece di svolgere le funzioni del sindaco e della stessa giunta comunale, decaduta automaticamente. Il commissario di origine ciclitane ha alle spalle due simili esperienze, una al comune di Scicli dove ha sostituito il sindaco dimissionario Giovanni XXV, l'altra precedente al comune di Pachino. In attesa del suo arrivo ufficiale a Ragusa si discute con sempre maggiore interesse su chi potrà essere il nuovo sindaco della città. Dopo varie indiscrezioni più o meno velate, adesso arriva all'ufficiale disponibilità alla candidatura da parte dell'assessore uscente Sonia Migliore, donna dell'Udc. Una notizia che effettivamente sembrava sempre più certa dopo che il nome della Migliore non era comparso tra i candidati dello scudo crociato alle prossime elezioni regionali. L'ex assessore aveva dichiarato di non essere disponibile temendo di bruciarsi accanto a nomi importanti, in primis quello dell'uscente Orazio Ragusa, meglio le amministrative. Bisognerà però vedere se il partito deciderà di presentarla o se le preferirà qualcun altro. Si parla dello stesso Franco Antoci, ex presidente della provincia, da sempre uomo nelle grazie dei ragusani, grazie alla sua politica moderata. In casa PDL si fa invece il nome di Giovanni Occhipinti, al momento candidato alle regionali. A vestire la maglia PDL per la corsa a Palazzo dell'Aquila, oltre a Occhipinti, potrebbe essere poi Salvo Mallia o ancora Ciccio Barone, tra i tre però il meno quotato. Poi c'è il PD che si sfrega le mani dopo l'uscita di scena di Di Pasquale, qui si fanno i nomi di Peppe Calabrese, ma anche in questo caso bisognerà aspettare l'esito delle regionali, e di Sergio Guastella che si dice disponibile a condizione di un rinnovo della classe politica. Milita infine nell'area amministrativa è Giovanni Cosentini, attuale vice sindaco, e chissà che almeno stavolta la sua attesa non venga ricompensata. Manca poco più di un mese alle elezioni regionali di fine ottobre e alcuni partiti nuotano ancora in mare aperto. Confusione al momento soprattutto in casa UDC, PDL e PD. Nel partito dello scudo crociato si è registrata oggi la notizia che Enrichetta Guerrieri, il cui nome compariva nella cinquina dei candidati, non ha dato la sua disponibilità, anzi la sociologa ha categoricamente smentito la sua discesa in campo, dichiarando di non essere interessata a qualunque competizione elettorale. Grovigli politici ben più seri invece nei due principali partiti, PDL e PD. Il Popolo delle Libertà non solo ha completato solo per tre quinti la sua cinquina di nomi, ma adesso neanche i tre candidati sembrano vivere momenti tranquilli. A non dormire Sogni Sereni e Giovanni Occhipinti, esponente del versante ragusano, che al momento è dato al secondo posto, sorpassato da Giorgio Assenza, avvocato e capogruppo del partito a Comiso. Assenza raccoglierebbe infatti i voti degli ex AN che gli permetterebbero di correre per l'arse con una marcia in più. In bilico poi la candidatura di Rustico, sindaco di Ispica, che sta fiutando con sempre maggiore insistenza, puzza di sicura sconfitta e pare si stia guardando intorno alla ricerca di porti più sicuri. Passiamo in casa PD, qui è successo veramente di tutto grazie alle danze politiche del candidato Crocetta che sta regalando una campagna elettorale densa di colpi di scena. Ancora da risolvere l'enigma dei tre posti per quattro candidati, non si capisce chi sarà fatto fuori e pensare che il nome e gli slogan dei quattro circolano già da qualche giorno in cartelloni elettorali e spot vari. Il tempo è denaro, pare abbiano pensato i quattro, e invece di correre il rischio di restare indietro, noi la nostra campagna elettorale la iniziamo. Con chi farla ci penseremo dopo. Facendo due conti, però ad uscire dalla lista ufficiale del PD sarà probabilmente Fabio Nicosia che potrebbe accompagnare Nello Di Pasquale nella lista Crocetta presidente. La condizione che Nicosia chiederà in cambio, c'è da scommetterci, è che Di Pasquale venga inserito anche nel listino bloccato, in modo che se Crocetta dovesse vincere, Di Pasquale verrebbe eletto automaticamente attraverso il listino, lasciando così il posto a Nicosia. E chissà come reagirà calabrese a questo tradimento colossale. Resta da chiarire infine un altro mistero, quello dell'assessore regionale Francesco Aiello. Aiello, lo confermano diverse voci interne agli ambienti politici, che che ne dicano quelli del suo movimento, era dato inserito nella lista Crocetta presidente. Effettivamente l'avvicinamento di Aiello a Crocetta avrebbe avuto un fine preciso, aumentare il peso politico dell'assessore regionale in casa MPA, dove Aiello risulterebbe sgradito all'uscente Riccardo Minardo, che avrebbe detto no alla sua candidatura a Lars. Aiello avrebbe dunque giocato la carta della lista a sostegno di Crocetta per intimorire il partito autonomista e innalzare le sue quotazioni. Fatto sta che ad oggi il nome dell'assessore regionale non compare ufficialmente in alcuna lista. Aspettando Comiso Vittoria, sale l'attesa per il derby che si giocherà domenica pomeriggio, con fischio d'inizio alle 15.30 alla comunale. I verdi aranci si presentano imbattuti con una vittoria e un pareggio all'attivo, il bianco-rossi invece a punteggio pieno grazie alle due belle vittorie ottenute. Il presidente del Comiso Calcio, Salvatore Di Stefano, è fiducioso, convinto che il match sarà equilibrato, così come l'è campionato in generale. Infatti rispetto alla passata stagione non ci sono due squadre come Ragusa e Messina, capaci di ammazzare il torneo sin dalle prime battute. Noi partiamo con il minimo alla salvezza, poi man mano se riusciamo a fare qualcosa in più cerchiamo di fare qualcosa oltre. L'anno scorso, come ti dicevo prima, volevo lasciare, quindi poi alla fine ho trovato un bel gruppo di persone che grazie a loro siamo riusciti nuovamente a transitare un nuovo campionato di eccellenza. Ci stiamo organizzando e cerchiamo di fare il meglio in questa nuova avventura. Penso che la vittoria sarebbe la cosa più importante, quindi di battere i cugini anche se poi questo derby è arrivato presto all'inizio del campionato. Comunque prima o dopo si doveva fare. Speriamo di mettercela tutta e colgo l'occasione per dire al pubblico come sanno domenica di essere presente, i tifosi e gli sportivi per dare il dodiceso nuovo in campo, per dare quella forza e quella carica in più ai giocatori. L'appello del presidente è per i tifosi affinché sostengono la squadra riempiendo gli spalti dello stadio. E attenzione all'ex della partita Fabio D'Agosta, indimenticato bomber del Comiso, in questa stagione passato al vittoria. Fabio D'Agosta, lo cerchiamo di tenere a bada. È difficile, ma ci proviamo. Omicidio misterioso a vittoria. Ivan Inglese, di 32 anni, è stato ucciso giovedì sera nella zona di Contrato Pozzo Ribaudo, nelle campagne Ipparine, in direzione di Gela. Il corpo è stato trovato in un campo intorno a mezzanotte. La vittima è stata freddata con alcuni colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola. Inglese era un dipendente delle poste italiane incensurato. Il giovane, impiegato solo part-time presso le poste, durante le ore libere lavorava presso il distributore di metane che si trova sulla SS-115. Ancora incerta la dinamica dell'orribile omicidio, così come il momento. Alcune persone della zona hanno avvertito la polizia della presenza di un'auto, una Volkswagen Golf di proprietà del giovane, lasciata sul ciglio della strada. Sul posto anche una seconda automobile, un SUV di colore scuro. Dalle prime indiscrezioni pare che ad allertare la polizia sia stato il padre del giovane intorno alle 23, perché è preoccupato del mancato rientro del figlio. Il cadavere del giovane è stato scoperto dalla polizia e intervenuto immediatamente sul posto. Nel frattempo i familiari si erano recati in commissariato per segnalare il mancato rientro a casa del giovane. Constatata la morte del ragazzo, giunta dalla polizia scientifica per i rilievi del caso. Da una prima ispezione del cadavere pare che il giovane sia stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Sono in corso le indagini del commissariato alla ricerca dell'assassino. In queste ore, infatti, sono state sentite diverse persone. Inconcruenze che di fatto rendono illegittimo il bando e ne infigiano ogni validità. Questo quanto sostiene l'avvocato Nello Salemi, legale della cooperativa Artemide, a proposito del bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza disabile a Vittoria. Il bando, predisposto dagli uffici comunali dei servizi sociali, riguarda l'affidamento del servizio piano individualizzato di intervento a favore di alunni portatori di handicap grave per il sostegno alle autonomie e comunicazione personale. Le incongruenze riguardano i diversi aspetti del capitolato di gara, ma tra quelle che risaltano più all'occhio c'è l'importo a base d'asta di circa 153.000 euro, che non è assolutamente sufficiente per garantire 15 operatori con qualifica assistente educatore specializzato richiesti dal bando. Infatti, applicando il contratto collettivo nazionale di categoria agli operatori a livello base, la somma predisposta dal comune di Vittoria è palesemente inferiore a coprire i costi. Ed ancora, a pagina 16 del bando, c'è scritto che nel caso di parità di punteggio complessivo il servizio può essere rediviso in lotti e in parti uguali, tra le ditte che raggiungono lo stesso punteggio. Un progettimento che viola quanto stabilito dal reggio decreto del 1924, mai abolito e ancora in vigore, che prevede il sorteggio. La divisione del servizio a posteriore, inoltre, è impossibile per una serie di motivi che riguardano la peculiarità e la logica gestionale diversa a causa dei progetti migliorativi, che non possono essere identici tra le varie cooperative. La cooperativa Artemide ha presentato dunque la richiesta di annullamento in autotutela della procedura negoziata e la conseguente indizione di una nuova procedura di gara in osseguo alle normative del settore e della disposizione dell'ex decreto ministeriale del 2 aprile del 2012. Come ha evidenziato il legale Nello Salemi, è evidente che semmai si addivenissa ad una giudicazione del servizio, la cooperativa che risulterà giudicataria non potrà applicare i contratti collettivi nazionali di categoria e gestirà il servizio violando quotidianamente le disposizioni di legge, con l'evidente placit degli uffici e dell'amministrazione comunale. Che cosa accadrà adesso? Se il servizio sarà affidato ad una delle cooperative che stanno concorrendo, ci saranno delle conseguenze non solo di natura amministrativa, ma anche penale a carico dei funzionari comunali e degli amministratori. A questo punto, in nome della tanto decantata trasparenza all'amministrazione comunale, non resterebbe altro che revocare il bando in autotutela. Momo Carpentieri si candida nella lista del PDL per le prossime elezioni regionali. Il colpo di scena è stato annunciato oggi con un comunicato del coordinamento cittadino Modicano, che si è riunito in vista della tornata elettorale. L'ex vicepresidente della provincia prende il posto di Piero Rustico, accreditato fino a qualche giorno fa come sicuro candidato. Il primo cittadino di Ispica ha fatto un passo indietro, preferendo rimanere alla guida della città, e così la casella libera è stata occupata da Carpentieri. Una mossa a sorpresa che spiazza anche gli altri due candidati della lista, Giovanni Occhipinte e Giorgio Orsenza, che hanno ufficializzato le candidature qualche giorno fa, preparando già manifesti elettorali. Adesso infatti il favorito per lo scranno di Sala d'Ercole è proprio l'esponente Modicano del PDL. Inoltre bisognerà capire chi tra Occhipinte e Carpentieri ricorderà del sostegno del coordinatore provinciale Nino Minardo, o se quest'ultimo si manterrà per così dire neutrale. Più probabile che le sue attenzioni comunque saranno puntate proprio sul suo compaesano. Sul fronte degli altri partiti è ancora nulla di nuovo sotto il sole per il PD. Amatuna, Di Giacomo Calabrese e Fabio Nicosia restano in corsa per tre posti maschili. Uno sarà fatto fuori, ma chi? Ancora in certezza pure nell'MPA, dove a parte l'uscente Riccardo Minardo non c'è alcuna certezza, con voci che si rincorrono e che poi vengono puntualmente smentite. Nessuna notizia infine dall'assessore regionale Aiello, che potrebbe essere uno dei candidati del partito dei siciliani MPA. Alla faccia dei tagli agli sprechi, Ragusa sembra non conoscere crisi. D'altronde come si potrebbe pensare a risparmiare in piena campagna elettorale? Nel centro storico di Ragusa Ibla, per la precisione al quartiere degli archi, da stasera prende il via la prima edizione della manifestazione Archifest 2012, una kermesse tra arte, cultura e folklore. Diversi gli appuntamenti in programma oggi e domani, obiettivo della manifestazione è quello di promuovere e valorizzare il patrimonio dei beni unesco e il quartiere di Ibla. Certo risulta strana una manifestazione organizzata in periodo di crisi economica, in un momento difficile per le casse comunali letteralmente prosciugate. Ma quanto pare, tali ristrettezze valgono solamente quando si deve parlare di servizi da rendere alla cittadinanza o come scusa per aumentare il prelievo fiscale. Nessun riferimento alla povertà comunale invece quando si tratta di organizzare feste e festini per compiacere questo, quell'assessore o consigliere vario. Sì, perché Archifest 2012 costa alla cittadinanza ben 20.000 euro, altro che crisi. Tale cifra è prelevata dal capitolo del bilancio dedicato ai centri storici, nello specifico dalla legge su Ibla, con tanto di approvazione tramite una determina dirigenziale. Ed ecco che 20.000 euro vengono sperperati per l'ennesima iniziativa culturale, che sarà anche lodevole nei suoi propositi ma che poteva essere rispermiata in questo momento. Sembrano infatti incoerenti le parole dell'allora sindaco di Pasquale quando, in fase di approvazione di bilancio preventivo, tuonava chiaramente che soldi non ce n'erano, ma a quanto pare ci sono, come sempre, le dovute eccezioni. Parole dure sono espresse dal consigliere Giovanni Lauretta, il vice sindaco Cosentini, commenta il consigliere del PD, continua a stornare soldi come se nulla fosse, i delegati del sindaco perseverano nell'incarico, è il caso del consigliere comunale Titila Rosa che ancora continua a spacciarsi come delegato per i centri storici, nonostante sia già decaduto per effetto delle dimissioni del sindaco. Qualcuno dica loro, perché non lo hanno ancora ben compreso, che devono sgomberare in quanto l'amministrazione non esiste più. Effettivamente il dubbio che tale manifestazione venga organizzata per scopi diversi aumenta quando si legge chi è l'organizzatore della Kermesse. Si tratta infatti dell'associazione culturale Palco 1, il cui presidente Maurizio Nicastro è ben noto negli ambienti vitaioli della città quando ci sono feste da organizzare con soldi del comune. Da ultimo Nicastro ha organizzato il carnevale a Ragusa. Dunque sempre i soliti noti e sempre le solite determine che vengono approvate alla chetichella senza chiedere il permesso a nessuno, ma lo abbiamo detto prima, in piena campagna elettorale per le prossime amministrative, ogni politico fa di tutto pur di ottenere un minimo di visibilità e poter dire alla gente, babba, guardate grazie a me cosa si fa a Ragusa Ibla. Il video è stato ufficialmente presentato alla stampa in anteprima nazionale nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono a Vittoria. Il videoclip che accompagnerà l'esibizione della pianista Giuseppina Torre nella sirata finale dei Los Angeles Music Award che si svolgerà giovedì 15 novembre all'Avalon Theater a Los Angeles. Il video ufficiale del brano The Ash of Stars con il quale Giuseppina Torre concorrerà alla rassegna californiana è stato girato a Vittoria, in particolare al Teatro Comunale a Palazzo Iacono. La conferenza è stata fatta per presentare il video in anteprima di The Ash of Stars che parteciperà a questa mia composizione al 22esimo Los Angeles Music Awards dove ho avuto appunto delle due nomination come instrument artist e come international artist of the year dove rappresenterò l'Italia. All'incontro oltre alla pianista Giuseppina Torre ha partecipato anche Sandra Inzaldo, presidente dell'associazione culturale Uno Nessuno Centomila che ha prodotto il video con il patricine del comune di Vittoria. Sì, noi come associazione culturale che rappresento Uno Nessuno Centomila abbiamo abbracciato il progetto, abbiamo voluto coaduvare le bellissime musiche di Giuseppina Torre con la realizzazione del videoclip che sarà poi proiettato ai Los Angeles Music Awards durante la sua esibizione. Momenti di panico sono stati vissuti ieri mattina a Ragusa, scenario il bar Mediterraneo di Via Roma, luogo di incontro, emblema della vita sociale, culturale e politica di Ragusa. Ieri è scaduto il differimento allo sgombero dei locali da parte di Unicredit, titolare della struttura e di quella dell'albergo adiacente e le serracinesche dello storico bar si sono abbassate per sempre. All'arrivo dei carabinieri che hanno eseguito l'esecuzione di sgombero dei locali, emessa dal Tribunale di Bologna, Salvatore D'Amato, fratello della titolare della società che gestisce il bar, la Ristor House, si è incatenato e amminacciato di darsi fuoco. Solo dopo diverse ore e vari tentativi di persuasione, l'uomo ha desistito dall'insano gesto. A niente sono valsi gli sforzi per cercare una soluzione, il bar Mediterraneo ha chiuso. Da ieri l'Unicredit ha preso il possesso materiale dei locali, sorte diversa invece per la struttura dell'albergo, gestito da un'altra impresa che è riuscita a trovare un accordo in extremis. Resta adesso il dramma di una decina di famiglie, rimaste improvvisamente senza lavoro, senza alcuna colpa. La Ristor House è infatti perfettamente regola con il pagamento dei canoni d'affitto alla società allocataria, la MP, il nodo da ricondurre proprio a tale società che non avrebbe pagato per anni le mensilità all'Unicredit. Non resta adesso che presentare un ricorso in sede civile, intanto prosegue l'indagine penale che vede accusati di truffa e tentata truffa due uomini, un ragusano e un ravennate. Taglio del nastro. Ieri sera a Comiso, della sede del Comitato elettorale del deputato regionale uscente del PD, Pippo Di Giacomo, l'Onorevole ha incontrato moltissimi cittadini pronti a sostenerlo per la riconferma all'Ars. Obiettivo principale è quello di impegnarsi per risolvere il nodo delle infrastrutture, in primis l'aeroporto di Comiso fondamentale per il rilancio del territorio ibleo. Incominciare dalle infrastrutture, ma insomma a fianco dei problemi della comunità, che sono tanti. Certo, alle infrastrutture si legano i nostri pensieri migliori, quelli che finalmente riescono a dare una parola di ottimismo in un pessimismo dilagante. Noi abbiamo il dovere di farci carico, certamente dei problemi, di un momento difficile, della disperazione, della disoccupazione, della disaffezione della gente nei confronti della politica, ma abbiamo anche il dovere di pronunciare una parola di ottimismo, che parla di un futuro migliore nella nostra zona. Ma in queste ore all'interno del Partito Democratico resta da sciogliere l'enigma dei candidati maschili, tre posti per quattro uomini, a Matuna, Calabrese, Nicosia e lo stesso di Giacomo, l'esponente Comisano è convinto che la segreteria provinciale riuscirà a sciogliere il nodo. Francamente per gli uscenti non credo che ci sia alcun rischio, c'è la necessità, come dire, di far candidare tutti quelli che si vogliono candidare e trovare la quadratura, questo mi sembra anche giusto e sono convinto che alla fine la soluzione si troverà. Ragusa avanza a Pozzallo a Retra lungo il cammino per dire no alle perforazioni in mare. L'iniziativa, che lo ricordiamo si chiama Umari, non si spiritusa, è stata promossa dal Consorzio per il Ripopolamento Ittico Golfo di Siracusa e da Greenpeace. Diversi comuni che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione contro le concessioni petrolifere nel canale di Sicilia, tra questi anche il comune di Ragusa. Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, infatti, il civico consesso del capoluogo ha approvato un ordine del giorno presentato dal PD cittadino avente ad oggetto proprio le trivellazioni petrolifere. Nel documento è stato messo in evidenza come ogni anno vengono versate in media tra le 100 e le 150.000 tonnellate di petrolio, escluso incidenti, che fanno così registrare la maggiore densità di catrame in mare aperto del mondo. Ma per un'amministrazione che aderisce ce n'è una che fa un passo indietro. Il comune di Pozzallo ha infatti inviato a Greenpeace una comunicazione in cui dichiara di ritirare la propria adesione all'appello promosso dall'Associazione a tutela del mare contro le trivellazioni offshore. La notizia arriva proprio quando la Edison, gestore della piattaforma Vega A a largo di Pozzallo, ha chiesto di realizzare un nuovo impianto, che sarà chiamato Vega B, nella stessa concessione. Il sospetto è dunque che il comune di Pozzallo potrebbe avere cambiato idea a seguito di probabili pressioni da parte della Edison. Grazie a tutti.